Sì, sono uscite le ROW, quindi si può fare già un discorso effettivo sul capitolo, per cui insomma se non avete visto niente e non avete spoiler, tornate quando avrete recuperato. D'altronde vabbè, raga, gli spoiler erano usciti settimana scorsa, quindi inevitabile, secondo me, l'anticipo di info complete. Anyway, siamo in questa fase transitiva di vacanza e di risistemazione dello studio, motivo per cui, perché ho preso la trattatura nuova, ma sto facendo dei test, sto provando le inquadrature, sto provando a omogenizzare il tutto come si deve, quindi non avrò il tempo materiale, nel mio tempo libero, questa settimana, di fare un video strutturato, editato come si deve. Per cui ci facciamo una chiacchiera, è molto easy, io comunque ho la mia scalettina di robe da commentare e da trattare sul 1057, ragione per cui, secondo me, se ne può già parlare così, poi vabbè, si ricarica come al solito. Anyway, mini avventura, si comincia con la mini avventura, no, con Caesar, che bello, Caesar che ricompare, fa la sua apparizione, salva le chiappe ai Germa, o quantomeno tenta di salvare le chiappe ai Germa, poi bisogna vedere come andrà a concludersi tutta la mini avventura in questione. E vi dirò, la comparsa di Caesar era un risvolto che davamo quasi per scontato, ma che comunque, almeno a me ha fatto piacere vedere. Come vi dicevo anche nell'analisi del video scorso, no, questa mini avventura di Germa, al momento, non aveva una modifica dello status quo, quindi in qualche modo, la condizione di partenza, cioè loro catturati a Kailan andava modificata, che poteva anche essere, può concludersi con un, in realtà vengono comunque ricatturate e rimangono a Kailan, ma si deve andare a instaurare un qualcosa di diversificato rispetto alla premessa iniziale, che può essere anche, in questo caso, stanno con Caesar, diventano amici di Caesar, va a sapere qualcosa, no? Che poi sarebbe anche divertente rivedere un Judge fare di nuovi esperimenti e robe con Caesar Clown, sarebbe un mix esplosivissimo. Comunque, come dicevamo, insomma, per non dilungarsi troppo nella mini avventura, affinché la mini avventura avesse un senso di esistere, affinché avesse senso che Oda dedicasse tutte queste tavole alla mini avventura, doveva succedere un qualcosa che andasse a rompere gli equilibri pre-minia avventura. In questo caso è, per l'appunto, l'azione di Caesar, che non si sa come andrà a concludersi, ma comunque c'è e già modifica lo status di partenza. Il capitolo vero e proprio, invece, ci fa tornare potentissimamente con la narrazione in stile teatro Kabuki. Per quanto poi, io la metterò da parte un attimo questa cosa e ci vorrei tornare sulla fine del video, per fare un discorso un po' più organico, visto che la narrazione è stata, per appunto, spezzata, per renderla più teatrale in questo capitolo. Quindi, sulla fine dell'analisi torniamo. Perché c'è una cosa del narratore che, secondo me, comporta una grossa cosa a livello di futuro della narrazione e proprio, in realtà, a livello di lore stessa, ok? Quindi, c'è una bella botta di lore, come si sol dire, attraverso questa narrazione del teatro Kabuki che si va a concludere e che lascia aperta in atto uno spiraglio non indifferente, ma ci troviamo dopo. E emotivamente è un capitolo pazzesco, è estremamente coinvolgente, secondo me. Era da tanto che non mi emozionavo così tanto con un capitolo in questione e, anzi, vi dirò, proprio il trasporto emotivo che mi ha lasciato è potente. Mi ha divertito, nei momenti in cui dovevo divertirmi. Mi ha emozionato, nel senso di proprio feels, magoni, queste cose qua, no? Un po'... Trasporto emotivo. Un importante trasporto emotivo, un gran bel capitolo, da quel punto di vista. Quindi, se noi vogliamo fuori di manga per farci coinvolgere emotivamente, questo capitolo è perfetto. Da quel punto di vista è assolutamente perfetto, però, quindi molto coinvolgente, però sono combattuto, in realtà, nel gradimento finale di questo capitolo, per varie cose che accadono e che hanno, in mia modesta opinione, poco senso d'essere. Partiamo da Yamato. Yamato non prenderà il mare, quindi non entrerà adesso, quantomeno in ciurma, con Rufy, al che si crea un, tra virgolette, un inghippo che ha già scosso molto gli animi, ho già visto parecchia roba su Telegram di gente, appunto, scossa, adirata per la scelta, sia per tutte le premesse narrative date all'interno dell'opera, quindi tutto ciò che dice il personaggio Buono Kuni a Onigashima, più cose esterne come il merchandise che andavano a, appunto, spoilerare l'ingresso di Yamato in ciurma, è che, secondo me, c'è da fare un discorso un po', no, di chiuso su questa cosa, perché, in realtà, secondo me, il fatto che Yamato non sia entrato adesso non preclude, a priori, il fatto che entrare in futuro. Ergo, tutte le premesse date, in questo caso, sono, secondo me, assolutamente coerenti. Vi farò un esempio molto, molto, molto specifico. Allora, c'è stato un... c'è stato, come dire... partiamo da... facciamo un discorso un po' più ampio. Allora, era il 2017, ok? Quindi parliamo di cinque anni fa. Nel 2017, l'ingresso di Jim Benciurma sembrava molto, molto lontano per certi aspetti, ma molto vicino per altri, ok? Eravamo a Kick Island, eravamo a Kick Island con Oda che già ci faceva assaporare il sentore di Wano Kune, perché era del 2017 la dichiarazione che, ah, sì, sì, ma Wano Kune inizierà adesso, poi non è proprio iniziato adesso, però è iniziato un po' dopo le premesse che Oda aveva detto, avrebbe manifestato e compiuto, ma comunque ci faceva già inusare un pochettino Wano Kune. Quindi c'era questo sentore di Wano Kune, si conclude con Jim Benciurma. Vi dirò di più. Appunto, siamo a dicembre 2017 e a Kyoto, nel Kurumazaki Shrine, che è un tempietto, un logo di culto, spirituale, dedicato però all'intrattenimento del mondo giapponese, il team di Shonen Jump, che è la rivista in cui One Piece viene, per l'appunto, pubblicato, era andato e ha fatto una sorta di offerta, di buono speech, di buon augurio a Jimbe, come nuovo ingresso. Questa cosa la fanno e l'hanno fatta a livello editoriale come buon auspicio e buon augurio con tutti i membri della ciuma protagonista. Quindi quando un membro stava per entrare nella ciuma, allora andavano al tempietto, facevano sta roba e facevano. E nel 2017 avevano, per l'appunto, aggiunto Jimbe. Jimbe che però è entrato in ciuma lì, è entrato in ciuma anni dopo, anni dopo a livello di pubblicazioni di capitoli, perché è entrato a Wano Kuni, manco a Cake Island, quindi manco nell'arco narrativo in cui hanno fatto questa offerta. Al che, ricordandomi questa cosa avvenuta per Jimbe, secondo me, e qui ribadisco, in mia opinione, non è che se Yamato adesso non è entrato, allora tutte le robe sul merchandise, sulla statua che dovrebbero fargli, eccetera, eccetera, non valgono niente o verranno presi in giro. perché, essendo un prodotto che viene considerato lungo nel tempo, vengono fatte determinate cose anche in vista futura, esattamente come Jimbe con il tempietto e l'offerta, eccetera, eccetera. Ergo, che ci fosse il merchandise di Yamato, che ci fossero tutte le robe di Yamato che deve entrare in ciurma, sia a livello narrativo che a livello proprio di editoria, non vuol dire che è un problema che è stato cambiato all'ultimo, magari nei piani entrerà più avanti. Come vi dicevo nel video sugli spoiler, quindi adesso possiamo espandere il discorso, se vogliamo rifarci, no, cosa che mi avete super chiesto, il discorso del pattern di Yamato, io al tempo del video sul pattern di Yamato, parliamo di un anno fa, credo, vi avevo detto una cosa, se dovesse rispettare il pattern d'ingresso, ci sarebbe un discorso strano con la nave che dovrebbe dare ai protagonisti, perché mi sembrava Sanokimogiwara di punti in bianco avrebbero cambiato una nave, quindi perché avrebbero dovuto abbandonare la Thousand Sunny e prendere un'altra nave, aveva poco senso per il sogno di Frenkie, e infatti mi era rimasta questa incognita che avevo dato anche a voi a fine video, cioè come si risolve sta roba del pattern? Ad oggi, con le informazioni avute negli scorsi capitoli, considerando che c'è una corazzata sotto Wano Kuni e che Yamato rimane a Wano Kuni, che intanto che la frontiera, quindi i confini non verranno aperti, e quindi come sappiamo all'apertura dei confini verrà risumata l'arma ancestrale, boh, cioè direi che a quel punto Yamato potrebbe tranquillamente entrare in ciurma nel momento in cui andrà a portare la nave a corazzata in Muiwara, completando pure il discorso del pattern, quindi topissimo. Non riesco a vedere, quindi narrativamente parlando, per me tutto regge in maniera più che perfetta. Siamo in linea con l'ingresso del nuovo mondo, dove viene trovato il personaggio ed entra anni dopo, pensate a Jinbe che promette sarebbe entrato in ciurma a Fishman Island ed entra Wano Kuni. Parliamo di 400 capitoli di distanza, non pochi direi. Quindi ecco, Yamato, secondo me, narrativamente parlando, ha tutto il tempo di entrare nel mondo. Dal punto di vista editoriale, l'esempio di Jinbe ci conferma che può esserci un delay tra la roba editoriale e l'ingresso effettivo, ragion per cui, secondo me, il problema non sussiste. State tranquilli che, per le motivazioni dette per me, è coerentissima questa cosa. Quello che non è coerente invece è la motivazione del non ingresso. Adesso ne parliamo perché Yamato dice che non vuole entrare in ciurma perché vuole esattamente fare come Oden, vuole incarnare l'identità di Oden e come Oden vuole andare in giro per Wano Kuni. E qui però sorge, secondo me, il problema. Perché Oden non è che voleva fare il turista a Wano Kuni, è che non riusciva a salpare da Wano Kuni, cercava di andarsene e non ce la faceva. E quindi l'unica soluzione che aveva era andare in giro a far disastri. Yamato non ha quindi per nulla capito il personaggio di Oden, non ha capito il suo senso di libertà, non ha capito il senso del wonder, dell'avventura, che ruota intorno alla figura del personaggio di Oden. E volendo riprendere una battuta che mi ha fatto Angelo, o c'è Oda che sta promuovendo il turismo in Giappone dicendo che è più bello viaggiare in Giappone che viaggiare all'estero, oppure sta roba a zero senso anche a livello metanarrativo. chiaro che è una battuta che Oda promuove il turismo in Giappone e quindi è Wano Kuni, però sta, fa troppo ridere come roba, non sembra che hanno aperto adesso i confini, si può tornare dopo il Covid. E la trovo poco sensata, cioè Yamato vuole essere Oden, ma di Oden non ci ha capito una fava e quindi si comporta a caso. Si può sovranalizzare e dare un senso? Assolutamente sì. Si può sovranalizzare qualcosa, qualsiasi cosa può essere sovranalizzata, in ogni contesto, in ogni ambito, soprattutto artistico, figuratevi. Però non lo so, secondo me qui ha già veramente poco senso. Ripetisco, si può sovranalizzare, si può dare una giustificazione a qualunque cosa? Sì, ma sarebbe appunto, a mio parere, una sovranalisi molto campata, perché è proprio una raccomandazione di base che non regge, non regge, se non questione marketing. Allora però è metanarrativa, non è più opera a fine a se stessa. Basta su Yamato non c'ho altro da dire, credo si sia trattato il trattabile del 1057 su Yamato. Passiamo a Momo. Perché Momo è il punto forse più interessante, vuoi per la carrellata di flashback, vuoi per il trasporto emotivo della scena, è molto 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 carino. Momo rimane comunque un bambino, rimane questa figura, questa entità, che fa tipo un passo avanti, due passi indietro a volte, a volte fa due passi avanti, un passo indietro, quindi c'ha un po' questo modo di porsi rispetto alla vita altalenante, molto ondulatorio per certi versi, in senso che non è sempre correntissimo con se stesso. quantomeno io non riesco a percepire lo corrente per se stesso, ma forse è corrente con se stesso per il fatto che è appunto un bambino, lui è rimasto un bambino, per quanto sia cresciuto, per quanto abbia avuto un'evoluzione caratteriale, lui si è bruciato vent'anni di vita, ma non è maturato di vent'anni, sta più o meno progredendo, sta più o meno procedendo. Comunque è bello vedere anche i personaggi protagonisti che si emozionano alla vista del Momo, emozionato, quindi c'è, ribadisco, questo trasporto ed è, secondo me, un momento di picco del capitolo, però va detto anche questo, cioè che è un personaggio ancora molto in divenire, può dar fastidio questo suo modo di essere altalenante, di dire prima A, poi B, poi C, poi D, questa cosa un po', può infastidire, può turbare, però è soggettivo, quindi dipende, dipende sempre dal caso, dipende sempre da tutti. Questo è quando. Vero, secondo me, il problema del capitolo è la parte teatrale, ma non l'idea, ma il concetto che esprime. Parliamo quindi di questa maledizione del sangue di Kurozumi. Perché? Perché è molto bello il parallelismo tra Oden che deve essere bollito perché il suo nome, ricorda il piatto tipico che per l'appunto si ottiene con la bollitura di determinati ingredienti ed è carino il discorso del tu ti chiami carbone perché Kurozumi vuol dire carbone e quindi sei fatto per essere bruciato. Però, cavolo, è tematicamente diseducativo in una maniera inenarrabile. nel senso è giustificabile perché? Perché siamo in un contesto feudale giapponese quindi Wano Kuni è il periodo Edo del Giappone quindi ci sono i rancori familiari tipici di quel momento storico. Stiamo parlando di una storia in stile teatro Kabuki quindi è molto teatrale e molto con questa narrazione esasperata. Però, non lo so, One Piece è una storia comunque contemporanea è una storia contemporanea che ha sempre narrato di determinate tematiche in un determinato modo. Prendiamo Ace e Roger per esempio quindi la maledizione del sangue di Roger cioè quanto si è trattato di sviluppare il personaggio di Ace quanto si è calcata la mano sul fatto che per quanto fosse figlio di Roger non era come Roger che era una persona a sé stante che aveva i suoi pregi e i suoi difetti che era smarcato dai vincoli e dalla maledizione dell'essere figlio di Roger pendete Sabo Sabo con lo smarcarsi dall'essere figlio di Nobili che non è perché figlio di Nobili che deve essere un pezzo di fango razzista no? E a proposito di razzismo gli uomini pesce cioè non tutti gli uomini pesce sono stronzi con gli esseri umani e viceversa non tutti gli esseri umani sono stronzi con gli uomini pesce quindi non lo so il fatto che ci sia la frase in cui viene detto che in quanto Kurozumi tutti i Kurozumi devono bruciare perché sono tutti che hanno il seme del male eccetera eccetera secondo me rima veramente tanto contro il tema dell'opera non il tema principale dell'opera che è il senso di libertà ma cavolo ve lo dire ci viene detto quante volte che la famiglia appunto in One Piece non è quella di sangue ma è quella che ti crei tutti sono figli del mare Barba Bianca che si fa la sua ciurma Rufi che ha due fratelli ma non sono fratelli di sangue perché la famiglia non è quella di sangue non è importante di chi sei figlio e invece no Oda ha deciso a Wano Kuni che se sei figlio di famiglia X quindi se tu hai un determinato cognome meriti l'estinzione secondo me è un concetto pericolosissimo di esprimere così perché ribadisco va bene se tu parli di opera feudale lo contestualizzi nel contesto storico in cui cazzo le rivalità tra famiglie erano la norma quindi ci si picchiava tra famiglie in Italia anche storicamente parlando è una roba molto comune infatti il Medioevo è terribile a studiare per tutte le lotte tra famiglie casate eccetera eccetera in Italia dico ma non solo in Italia anche all'estero ovviamente tutta la storia dell'Inghilterra non lo so secondo me è pericoloso pericoloso veramente 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 molto molto pericolosa questa cosa da elaborare in questo modo sapete cosa sapete cosa è come se Wano fosse uno spin-off realizzato da un altro autore no quindi che gli dai il contesto narrativo lo inserisci in quel mondo in quell'universo che è totodo ma non è Oda che lo sta raccontando è come quando dai un gioco Pokémon a un altro team che non è Game Freak o dai uno Star Wars al sceneggiatore registri nuovi mi sembra veramente quello il discorso perché Wano Kuni pare rimare contro a tutte le cose che One Piece ha sempre raccontato in 25 anni ed è ed è strano è molto strano è quasi al limite dell'ingiustificato secondo me però questo è il negativo e sia chiaro se uno volesse andare oltre potrebbe tranquillamente andare oltre ciò che ho detto e stracaricare gli errori di problemi di continuità l'incasellamento di Wano e di ciò che Oda ci ha qui raccontato però a me personalmente al momento ma in generale non mi pare neanche valga la pena nel senso che noi ormai come lettori dovremmo prendere quello che viene come viene nel senso che e qui parlo di mia esperienza personale a me è parso di capire che i temi del One Piece che mi hanno visto dal 2001 quando usciva il cartone animato in tv al 2017 circa ok quindi a fine 2017 il modo di narrare quel One Piece il modo di elaborare l'introspettiva di personaggi di quel One Piece è cambiata dal 2007 al 2022 One Piece ora in questi ultimi insomma cinque anni è un altro tipo di prodotto ha un altro tipo di pubblico con molta probabilità a questo punto e ha un altro interesse dal punto di vista commerciale basta pensare al fatto che la narrazione è stata cambiata facendo comparire Shanks non perché narrativamente parlando avesse senso far comprare Shanks ma solo e soltanto perché serviva un pretesto editoriale per pubblicizzare il film Red quindi ecco che come dicevo dal punto di vista proprio di marketing ha altre esigenze adesso e quindi date queste premesse dato questo cambiamento negli ultimi cinque anni secondo me la lettura di One Piece va diciamo adeguata a questa presa di coscienza senza infamia senza lote non ho detto che è meglio uno meglio l'altro è cambiato l'approccio è cambiato quello che nella testa degli autori è il target di riferimento quindi non parla più a One Piece parla ad altri tipi di pubblico secondo me questo va detto questo secondo me va detto e ci ho detto molto meme la partenza di One fa super ridere ricorda anche parecchio in realtà il concetto di fericolosità che avevamo assaporato a Skypiea quindi per me 10 su 10 quando si ritornano a quei momenti nostalgici che ci posso fare sono vecchio e nostalgico non sono più appunto il pubblico di riferimento degli ultimi anni di One Piece quindi quando c'è un no pizzichino di atmosfera dei vecchi tempi io mi emoziono di nuovo dico oh mio Dio è tornato è tornato è carino che Momo riceve una bandiera da Rupi che quindi Rupi e questa bandiera diventino il deterrente militare di Wanokuni che è un argomento che abbiamo trattato negli ultimi 2-3 video sui capitoli perché perché alla fin fine come ha detto anche Toro Verde senza Kaido serve un deterrente militare affinché la nazione non magna invasa ogni 2x3 a quel punto la bandiera di Rupi il fatto che è un imperatore quindi prende il posto di Kaido fa da grande deterrente perché la gente ha paura del nome di Rupi basta ricordare noi sappiamo che è un coglione noi sappiamo che Rupi è un rincoglionito e non è questa enorme minaccia socio-politica in linea di principio però però non è neanche le forze militari tecnicamente nel momento di riuscire a controllare ogni dominio che detiene non può intervenire in maniera immediata e rapida cioè lui ha il suo viaggio e sti cazzi più o meno il resto questa è una verità assodata ma lo sapevano i lettori se ripensiamo al ritorno alle Savaudi con la finta ciurma di Capello di Paglia che stava reclutando e non era ancora imperatore quindi il nome di Rupi anche prima di essere così importante prima di aver buttato giù gli imperatori e di essere diventato imperatore incuteva quest'area di di terrore e di rispetto adesso deve essere una roba incredibile quindi ecco che è un potentissimo deterrente militare quella bandiera bandiera che ribadisco secondo me adotteranno anche molte altre nazioni nel mentre quindi secondo me Dressrosa la tirerà fuori Alabazza potrebbe tirarla fuori eccetera eccetera secondo me potrebbe andare così quindi carina questa cosa cioè da una chiusa al discorso di Toro Verde da una chiusa anche a una buona importante domanda che ci si poneva almeno che io mi ponevo nel corso di capitoli scorsi ma passiamo all'ultimo argomento che è quello della lore che vi avevo promesso all'inizio di questa analisi no il sipario del capitolo si chiude con le parole del narratore che ci dice ora facciamo una piccola pausa se ci sarà ancora la possibilità speriamo di rivedervi ancora una volta qui fine ora a parer mio questa cosa ci va ad aprire le porte al quarto al quinto atto non sono sicuro di questa cosa però se il teatro kabuki doveva avere cinque atti noi abbiamo appena visto tre atti il quarto atto stando la struttura del teatro kabuki dovrebbe essere dovrebbe essere una guerra quindi magari avremo la chiusa del quarto atto con il narratore che ritornerà nel momento in cui verrà risumata Pluton magari entra in ciurma Yamato e ci sarà la guerra finale e dico questo perché se il narratore parla della narrazione a Wano noi sappiamo che a Wano ci devono tornare perché caspita le mura vanno buttate giù Pluton deve essere esumata quindi a Wano ci devono tornare è una meta obbligatoria quindi Rupi dovrà tornare lì magari lì avremo l'inizio del quarto atto e la fine del quarto atto con la mega guerra e il quinto atto che dovrebbe essere la chiusa quindi il festeggiamento tutto pace tutto attaraglio e vino il quinto atto sarà la fine vera e propria dell'opera magari quindi il post guerra con le ultime cosucce da sistemare potrebbe essere questo secondo me questa frase buttata lì potrebbe aprire le porte a questa nuova a questa nuova serie di avvenimenti però mi rimetto a voi non è così è una mia interpretazione non è ovviamente per forza di cosa quella corretta quindi fatemi saperebbe cosa ne pensate sbizzarrite date sfogo la fantasia come dico sempre parliamone perché perché sì fico bello comunque un bel 1057 questo questo sì bello 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 Grazie.